Una pericolosa organizzazione criminale era riuscita a imporre nel territorio messinese ai responsabili della sicurezza e ai titolari di pubblici esercizi la corrisponsione di somme di denaro per l'assunzione di personale addetto alla vigilanza, tentando in alcuni casi di estromettere la concorrenza e gestire così in totale autonomia il settore della sicurezza presso l'IDI, discoteche, locali notturni ed altro. Mentre De Luca Giovanni è ancora ricercato, sono finiti in carcere lo Duca Giovanni, Schepis Kevin, Esposito Giuseppe, Gangemi Vincenzo, Mazzitello Domenico e Fiumara Eliseo. Agli arresti domiciliari invece Fusco Andrea, Arena Placido e Rizzo Antonino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.